Bagnarotazza, fimmena resciuta, simenza da Calabria, forti e sana, ti sapi un mondo, bei e ti saluta, maestra di Trovaglie e buona gana. Percorrendo il corso di Bagnara si incontra il Monumento alle Bagnarote, donne che trasportavano merci caricate in grandi ceste poste sulle loro teste, simili ad antiche cariatidi per chilometri a piedi scalzi lungo la costa o risalendo le alture verso la spormonte commerciavano pesce, sabbia, legname non disdegnando il contrabbando di sale e tabacco. Questa durissima attività iniziò con il terremoto del 1783 quando le donne divennero parte integrante della ricostruzione e continuò fino agli anni 70 del 900. Spesso sfruttato dal caporalato il durissimo lavoro delle Bagnarote ha rappresentato per secoli una fonte di sussistenza e anche un modo per garantire le comunicazioni, una tradizione tutta femminile che testimonia la forza fisica, il coraggio e la determinazione delle donne di Calabria. Tu lavi, tu ripezi, tu carrii, tu runi vita, ogni anno hanno innocenti, tu porti pano a tutti entrallazzi per figli pura carni e sacramenti.